a voi due conviene andare un po sdb procediamo ora al recupero di questo sciame d'api guardate che spettacolo guardate quante api che hanno sciamato una roba incredibile adesso procediamo al recupero aspetta eh ad agio o con calma? vanno giù da soli qua Ale è vuoto e poi abbastanza che scia fuori con l'avato ma è in cima qui no di solito è in mezzo al glover punto che si è riempito di solito è in mezzo e lo seguisci qua è aperto il buco? ok oh uff grazie grazie